Musica Si è appena concluso l'evento numero due dei campionati italiani di poker, ossia l'evento di Omas X Max, sono con Nicola Danucci, il vincitore. Nicola come stai? Benissimo, non me l'aspettavo e sono contentissimo, non riesco anche a parlare. Ascolta Nicola, un torneo di Omas lunghissimo, molto tecnico, alla fine sei riuscito a spuntarla su un field anche importante, tavolo finale bello lungo, raccontaci un po' le tue impressioni. E niente, faticosissimo, pensavo di non riuscire assolutamente ad arrivare nemmeno a premio, però ce l'abbiamo fatta con pazienza e cerchiamo questo. Benissimo, Nicola, in fase bolla eri rimasto con due bui, hai fatto una bolla più importante. La fortuna mi ha aiutato quando serviva e poi il resto è andato tutto liscio, basta. Ascolta Nicola, progetti per altri tornei qui ai campionati italiani di poker, cosa farai? Domani pensavo di fare l'evento Turbo, il campionato italiano Turbo e poi vediamo se continuiamo così, magari ci scappa pure il main event settimana prossima. Benissimo, allora ancora complimenti e in bocca al lupo e veramente bravo. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille, grazie a tutti.